Sul cimitero di Comiso è in atto uno scontro politico che dopo aver infiammato la campagna elettorale di maggio e giugno dello scorso anno, entra nelle stanze del Palazzo Comunale. Pochi giorni fa la Giunta Schembari ha revocato gli atti della precedente amministrazione Spataro sul progetto di finanza, avente ad oggetto la gestione dei servizi cimiteriali. Insomma, uno stop a quella privatizzazione che tanto fa discutere. Ma cosa ne pensa la città? Per me hanno fatto bene. Era l'unica cosa buona che dovevano fare, perché non è possibile che dopo che uno muore deve pagare ancora molto, ma molto, ma molto di più. Hanno fatto bene, sì. Sono d'accordo. Anche per comprare un posto, per costruirlo, per togliere la libertà a un cittadino proprio nel momento in cui se ne va, mi sembra una cosa strana. Comunque hanno fatto bene per me. Penso di sì. Per me sì è positivo. Privato è peggio. Positivo sì, sì. Secondo me è giusto. Perché privatizzare una struttura che è pubblica. Non lo so, come mai l'amministrazione per gli denti aveva fatto questo passo. Non lo so, sarà stato un'azzardo. Non lo so. Per l'utilizzazione c'è più costo. Anche forse, come dicono, di poco, però c'è sempre più costo. Perché si deve fare la manutenzione, gli operai, chi custodia, senza custodia, telecamere. Tutto si deve pagare alle spese del cittadino. Si pensa così. Quindi meglio che rimanga pubblico? Pubblico è meglio. Il comune quello che può fare, fa un po' alla volta. Meglio pubblico o privato il cimitero? Meglio pubblico. Ci siamo gestiti dal comune. Se il comune c'è una persona ottima, che sa dirigere, sa governare. Tutto qua. Se non c'è quella che non sa governare o se no si vogliono spartire i soldi, a tutti i bani si può fregare sempre. Sempre. Perciò la gestione del comune sempre si è fatta in ottime livelli. Non spartire le competenze. Si sa, c'è sempre qualcuno che vuole speculare su queste cose. Perciò bisogna stare attenti in tutto. Anche se il comune, secondo me questa volta abbiamo un sindaco che è una donna. E le donne tante volte si fanno rispettare.